Insomma, il Presidente Mattarella dice che dobbiamo approfittare di questi fondi e li dobbiamo spendere perché se no saremmo degli sciocchi. Abbiamo dimostrato di essere sciocchi in varie occasioni e ne parleremo anche ampiamente. Però davvero sarebbe da stupidi non riuscire a portare a termine tutte quelle progettazioni delle quali ci siamo riempiti la bocca e che ora dovremmo mettere in campo. Di cosa si parlerà in queste tre giorni, a parte naturalmente il fatto che ci sono 2000 sindaci che girano per la città, ma il tempo non è buono a Genova, almeno staranno a lavorare. Allora, approfondiranno sul futuro del Paese, su che cosa? Infrastrutture, transizione ecologica e digitale, politiche europee, cultura, turismo e tutela del territorio, transizione sanitaria e risorse economiche. Niente, qualche stupidaggine. Sono cose, sono la base di questo Paese. E se noi riuscissimo a far dire a questa gente qualcosa di concreto su tutto quello di cui ho parlato io, infrastrutture. Allora, ma ci sono i sindaci che gli possono dire noi preferiamo le strade piuttosto che al ponte? Qualcuno lo dirà, qualcuno altro. Poi, la politica europea, lo sapete quello che sta accadendo anche dal punto di vista della moneta? Ci sono gli altri paesi che stanno facendo di tutti per creare una moneta che mette in difficoltà l'euro e quindi, anzi, il dollaro e quindi l'euro. Se non stiamo attenti, resteremo in brache di tela. Poi, cultura e tutela del territorio. Anche quella è una cosa assolutamente necessaria. Avete visto il territorio? Come si sfalda, basta che piova. A Roma ha piovuto due ore, si è allagato tutto. Si è allagato tutela del territorio. Come lo tuteliamo? Con quali soldi? E noi però, purtroppo, spenderemo soldi più in altre cose. Poi, la transizione sanitaria. Il Presidente Mattarella ha detto che la sanità è alla base della vita del cittadino. Senza sanità siamo dei paesi terzi o terzo mondo, anche quarto. La verità però è che lui parla bene, ma gli altri non gli stanno a sentire. Nessuno ha fatto nulla sulla questione sanitaria. Ma lo dico a tutta la Sicilia. Non c'è un ospedale in Sicilia che abbia il numero di persone, di dipendenti e di medici che sono necessari. Forse qualcuno nelle grandi città dove ci sono i famosi baroni collegati con la politica. Ma poi tutti gli altri sono in mezzo ad una strada. Hanno fatto qualcosa. Si sono preoccupati di chi sarà il manager. I manager non li possono fare perché il 31 scadono. Li rimetteranno in campo. Abbiamo sentito cosa dicono i manager. Ieri abbiamo sentito, ma ancora l'abbiamo mandato in onda noi, al Russo, al manager, al commissario di Ragusa, che praticamente non dice mai nulla. Ogni volta interviene, vedremo. Abbiamo posto decine di problemi, non succede niente. Il povero Giovanni Noto ormai è senza voce per tutte le cose. Ma non succede assolutamente nulla. Questa è la verità. Duemila persone che sono probabilmente a divertirsi. Ora io sarò cattivo un po', ma probabilmente sono a divertirsi. Ci vanno duemila sindaci e altre dieci persone al sindaco. Vedi che succede? Però la Meloni chiede aiuto ai sindaci e dice che i sindaci sono la colonna portante di questo paese. E dice che anche le province lo sono. Forse si è scordata che non ci sono le province in tanti posti. Comunque, sentiamo Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio italiano. Vediamo.